E' partito questa mattina un carico di diverse tonnellate di beni di prima necessità, alimenti, medicinali e vestiario che la Fondazione Pescara Abruzzo si è impegnata in prima linea a promuovere e realizzare a proprie spese in aiuto della popolazione dell'Ucraina. Un progetto anche frutto della collaborazione intrapresa già dopo i primi giorni del conflitto tra la Fondazione e l'Associazione Interculturale Ucraina, nessuno escluso con sede a Pescara in occasione della raccolta di fondi per i musicisti fatta a margine del concerto della National Chamber Orchestra di Kiev lo scorso 4 marzo al Teatro Massimo di Pescara. Un'occasione musicale trasformata proprio grazie all'aiuto offerto della Fondazione Pescara Abruzzo in una testimonianza corale di pace. Ora un nuovo aiuto con la speranza che il conflitto possa finire al più presto. Si tratta di uno stock di alimenti, di vestiari e di medicinali di prima necessità. Vuole essere un gesto concreto di solidarietà verso un popolo martoriato in conseguenza di un'aggressione di uno Stato troppo più forte e che vuole far valere solo la logica della forza. È un piccolo esempio, una goccia nella necessità oceanica di solidarietà di cui il popolo ucraino avrebbe bisogno ma la Fondazione come al solito affida le parole alle opere concrete e spero che in questo esempio sia seguito da altri atti di generosità e di impegno. Sono i primi rifugiati, li abbiamo accolto noi con la nostra associazione Nessuno Escluso e con l'aiuto del Comune di Pescara. Io voglio ringraziare tutti coloro che collaborano con noi per aiutare il popolo bisognoso ucraino. Questo di oggi è un grande segno di solidarietà e sensibilità verso il nostro popolo ucraino. Questo camion arriverà a 3.000 chilometri da qua, in una città che si chiama Kharkov dove sono state lotte feroci questi giorni, dove le persone sono rimaste senza cibo, senza vestiti, senza medicina e noi insieme alla Fondazione Abruzzo, che ringrazio veramente da parte di tutto il nostro popolo ucraino, possiamo oggi mandare questa merce verso Kharkov.